Come descrivere, Frank? Beh, c'è la testa, ovviamente. Non la toglie mai. Ti sembra strano? Cosa passa per la testa dentro quella testa? La sua musica. Frank, la gente dovrebbe conoscerti. Dovresti essere famoso. Possiamo essere grandi. Sarà grandioso. Vieni domani sera. Non ti accadrà nulla di male. Preparatevi al deliria!